Ci sono ancora delle modifiche a Pescara sul piano traffico e ancora ci sono delle discussioni tra maggioranza e opposizione. Qual è l'ultima? Si elimina la zona traffico limitato del sabato pomeriggio su via Regina Margherita, che c'era da 20 anni esattamente. E c'era quella zona traffico limitato perché il sabato pomeriggio via Regina Margherita diventava una camera a gas incredibile per l'afflusso di macchine in centro. Ovviamente quella operazione è stata curata in maniera tale che non ci fosse più quella situazione drammatica. E oggi invece questa amministrazione ripristina il passaggio il sabato pomeriggio su via Regina Margherita per arrivare in centro. Anche per il verde pubblico continuano ancora delle discussioni per come viene gestito le sosse a pagamento e anche gli abbonamenti, ancora non si vede la luce. Sì, veramente, se si volesse parlare delle attività di questa amministrazione non si finirebbe più. Se parliamo dei parcheggi a pagamento nel centro per i residenti, se parliamo dei parcheggi a pagamento nella zona sud, nell'area verde, è veramente incredibile. O se parliamo del verde che si sta seccando sulla riviera nord perché non si riesce a realizzare una pompa su via Gioberti per il tiraggio dell'acqua da un pozzo. Ecco, queste sono le cose banali che stanno distruggendo l'immagine della nostra città. L'amministrazione è ferma, continua ad aumentare le tasse, continua a dare incarichi e invece non riesce a trovare una soluzione ai problemi dei cittadini.